Perché non abbiamo ancora un nuovo governo se ormai sappiamo chi ha vinto le elezioni? Perché tra il voto e l'insediamento del nuovo governo ci sono alcuni passaggi da compiere. Intanto si devono insediare le nuove camere, lo faranno il 13 ottobre ed eleggere i loro nuovi presidenti. Poi devono partire le consultazioni del presidente della Repubblica con i partiti per capire chi può avere la maggioranza e formare così un nuovo governo. Solo a quel punto il capo dello Stato nomina un presidente del Consiglio e lo incarica di formare appunto il suo esecutivo. Spoiler, con un risultato così chiaro delle elezioni questa persona probabilmente sarà Giorgia Meloni. Ma non è automatico. Andiamo avanti. Quando il o la presidente del Consiglio ha individuato tutti i suoi ministri il nuovo governo presta giuramento al Quirinale. Il premier poi va a Palazzo Chigi dove avviene la cerimonia della campanella e il passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente. Quindi lo staff finale. Il governo va in Parlamento e chiede la fiducia. Quando lo ottiene diventa operativo.